Dalla paura di perdere a un pareggio, arrivato in Estremis che sta comunque stretto alla Ragusa di Beppe Anastasi che con il Lassambiase non è andato più in là dell'1-1. Al termine di una partita non bella ma nella quale soprattutto nel secondo tempo le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Primo tempo in equilibrio e povero di azioni da gol, match sostanzialmente giocato a centrocampo nel quale nessuna delle due squadre riesce mai a prendere il sopravvento sull'altra. Due le azioni degne di nota, una per parte al 34esimo quando spampinato si trova la palla buona tra i piedi a due passi alla porta ma viene stoppato dalla difesa. E cinque minuti dopo quando Fabio mette un cross insidiosissimo sul quale bravo il portiere Ferla ad anticipare Mercuri. Ragusa vicinissimo alla golla in apertura del secondo tempo con Milazzo che crossa per Panatteri che centra la traversa piena. Al tredicesimo Raimondi rimedia il secondo cartellino giallo e la Ragusa resta in dieci ma la superiorità numerica degli ospiti dura poco perché cinque minuti dopo Guerrieri commette un fallo su Gona a centrocampo e l'arbitro estrae il rosso diretto. Al ventiduesimo fiammata di spampinato sulla quale Dezio ci mette una pezza in calcio d'angolo e sui cui sviluppi ancora Milazzo a battere da lontano. La doccia fredda al quarantunesimo quando Martello da fuori aria centra l'angolino basso alla sinistra di Ferla. Un minuto dopo però ci prova Foderaro il cui colpo di testa spizzica il palo. Ma alla quarantacinquesima del secondo tempo di vita in corna su tiro cross di Alme mette in rete e finisce 1-1 ma il bicchiere mai come questa volta è mezzo vuoto. Abbiamo fatto tutta la settimana, ci siamo preparati tutta la settimana. Sicuramente però è anche vero che noi per fare un gol abbiamo preso due traverse, due parate. Voi avete visto il campionato è un campionato difficile dove sicuramente le nostre quattro assenze ma non è un alibi perché non l'ho mai detto e non lo dirò mai però è anche vero che a noi mancano quattro elementi importanti oggi. Oggi ci manca Bonarrico, Alderuccio, Crucitti, Romeo e questo è il campionato è questo qua. Appena ti mancano quattro elementi sono quattro elementi importanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.